Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 13 al 30 aprile per le scuole di Gromola, Ponte Barizzo, Tempa San Paolo e scuola dell'infanzia di Licinella nel comune di Capaccio Pestum. Il provvedimento, firmato con una ordinanza sindacale, è scattato a causa dell'incremento dei casi di positività al virus, come si legge nel documento a firma del primo cittadino, Franco Alfieri. Firmata anche dal sindaco del comune di Santa Marina, Giovanni Fortunato, una nuova ordinanza che prolunga la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza, limitatamente al capoluogo di Santa Marina, fino al 17 aprile. Il provvedimento si è reso necessario dopo screening di massa eseguito tra la popolazione residente e tra gli alunni frequentanti il plesso scolastico del capoluogo. Dallo screening è emersa una situazione di pericolosità legata al veloce e crescente aumento del numero di positivi tra gli abitanti del capoluogo, tale da non consentire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, limitatamente alla scuola del capoluogo. Vista l'attuale situazione epidemiologica nel paese di Santa Marina, spiega il sindaco Giovanni Fortunato, considerato che tra le persone risultate positive al coronavirus ci sono anche sei alunni che frequentano il plesso scolastico di Santa Marina, abbiamo deciso che la scuola rimarrà chiusa fino al prossimo 17 aprile. Colgo l'occasione per rinnovare l'invito a tutti i miei concittadini a prestare la massima attenzione al rispetto delle regole, unica arma di difesa in nostro possesso per contrastare il contagio e ritornare al più presto alla normalità.